I problemi che sistematicamente si stanno medirizzando, secondo me, si avrebbe avuto il numero delle squadre, ma la verità è magari fare anche un tiro, perché è uno stricilio continuo, magari fare, oltre il tironico, meno squadre, ma mostrino la solità di lanciare che è necessita, oppure ultima raggio anche due, però mi sento che se venga la Lega Pro voglia istituire qualcosa di più per me, almeno questo, dice il professionista, questo mi è passo di capire. I risultati ci stanno dando ragione, perché è così, come lei diceva prima, stiamo costruendo, abbiamo fatto il secondo anno che facciamo bene con risorse che non sono quelle faraoniche di altre società, eppure ci partiamo alla pari con tutti. Abbiamo avuto lastima anche a livello nazionale per quanto riguarda l'occasione dei bilanci, grazie a Dio, facciamo tutto con misura, ma i risultati ci stanno davvero ragione. Abbiamo una squadra che può stare benissimo nelle parti alte, magari non altissime, avremo il momento in cui recuperiamo un po' di infortuni, un po' di frescozza anche a critica che in questo periodo magari forse anche ci è mancata. Credo che ce la giocheremo alla pari. Sì, non veniamo dal momento difficile e questo ovviamente secondo me ci farà mettere in campo tutta la possibilità, la possibilità, la possibilità che ci vuole, perché non possiamo che affrontarlo in questo modo questa partita, perché sul piano della qualità ovviamente partiremmo partiremmo infacciuti. Invece se sapremo far tesoro di quella prima parte di campionato in cui abbiamo messo in campo queste armi, terminazione, freschezza, anche un numero di follia, no?